Al via i mondiali antirazzisti a Castelfranco Emilia nel Modenese la manifestazione sportiva contro ogni forma di discriminazione. Per noi Nelson Bova. Noi abbiamo avuto una mobilitazione importante del mondo professionista del calcio ad aprile quando nella Serie A e nella Serie B sono scesi in campo le squadre con lo striscione Verità per Giulio Regeni che ho portato qui oggi a testimonianza che la mobilitazione deve essere sia dall'alto con i nomi importanti ma deve essere soprattutto dal basso. Vigilia dei mondiali antirazzisti edizione numero 20 a Bosco Albergati cominciano ad arrivare con le loro tende i primi giocatori delle 184 squadre che da tutto il mondo sono qui per giocare a calcio e a tanti altri sport da domani fino a domenica 10 luglio ma oggi si parla della vicenda Giulio Regeni con il portavoce di Amnesty International Riccardo Nuri. Dopo quattro mesi non c'è ancora una verità? No, nonostante questa mobilitazione enorme che c'è stata di opinione pubblica, di enti locali, la verità non c'è e questo vuol dire che la campagna deve continuare. Non c'è perché dal Cairo non arriva collaborazione, non c'è perché siamo in una fase di stallo in cui sembra quasi che chiederla a volume più basso possa avvicinarci a qualche risultato. C'è come la sensazione che la tortura stia per essere sdoganata. Abitua soltanto all'idea, che è un'idea sicuritaria e che fa felici molti governi che in nome della sicurezza i diritti umani vanno limitati, siano violati del tutto, in nome della sicurezza si può torturare, si può tenere in prigione a tempo indeterminato, si possono eliminare fisicamente delle persone. Ai mondiali antirazzisti oggi è anche il giorno dei bambini, quasi mille durante tutta la manifestazione, per loro giochi e laboratori interculturali.